Non è stato facile per Catherine Zeta-Jones affrontare la malattia del marito e l'attrice lo confessa molto emozionata alla cerimonia di apertura del quinto congresso mondiale della International Federation of Ed and Neco-Oncologic Societies. Sul palco l'attrice ha infatti dichiarato «Sono felicissima di essere qui stamattina con mio marito e lo intendo letteralmente». Catherine ha poi ricordato il momento in cui nel 2010 a Michael Fu diagnosticato il cancro «Ero un disastro, sarò franca, stavo malissimo, ho sposato un uomo sicuro della vita, lui lotta per trasformare le cose sbagliate in cose giuste e per la prima volta stava lottando per la sua vita».